Con il completamento della procedura di VAS, valutazione ambientale strategica da parte della Giunta Comunale, si è chiusa una parte del più ampio iter relativo al progetto di realizzazione della cabinovia metropolitana Triesto-Picina. Di fatto la VAS permetterà ora al Comune di poter approvare in via definitiva la variante urbanistica del piano regolatore e di conseguenza la realizzazione del progetto definitivo già presentato. La Giunta Comunale ha adottato e ha fatto proprio quello che sono gli arricchimenti arrivati dai contributi di enti pubblici e privati, la valutazione ambientale strategica che include anche la vinca, adesso sarà portata in un prossimo passaggio anche al Consiglio Comunale, ovviamente perché possa approvare definitivamente quella che è la variante già frutto di un accordo di programma del 2021. I contributi, seppur non vincolanti, ovviamente hanno anche indirizzato quella che è l'azione amministrativa, grazie anche al supporto di enti titolati come l'Università di Udine, che ha proposto anche delle azioni di mitigazione proprio per l'intervento che concerne soprattutto il Bosco Bovedo. Per cercare di rendere semplice la procedura, le tappe di questo specifico percorso sono state queste. L'apertura della VAS è necessaria per modificare il piano regolatore e inserire nel suo interno il progetto della cabinovia. Una VAS, avviata ad aprile 2022, prevede l'approvazione della valutazione di incidenza ambientale, la vinca, che si è conclusa al terzo livello con la delibera regionale del giugno 2024, che ha confermato la compatibilità della variante con i valori fondamentali di tutela della salute, sicurezza pubblica e ambiente. Le così chiamate misure compensative riguardano l'istituzione di un nuovo sito Natura 2000. Fra i vari aspetti ancora in fase di completamento, che riguardano l'intero progetto, c'è la questione della fonte di finanziamento da ricercare fra le maglie delle poste statali. L'adozione è stata già fatta del piano regolatore, delle modifiche legate all'opera. Il prossimo passo è invece l'approvazione. L'approvazione ovviamente era soggetta al completamento di tutte le procedure ambientali che si sono così chiuse.